Stavamo finendo la raccolta e semplicemente mi è venuto in mente che quasi quasi una piccola parte la lascio a disposizione. 20 quintali di pomodori messi a disposizione, regalati da un'azienda agricola che si trova nella Valdichiana Aretina alle famiglie che ne hanno più bisogno e che hanno a che fare in questo momento con il caro Bollette. L'ho dovuta annunciare via Facebook perché non è che potevo andare dietro ad ogni porta a dire Bollette del pomodoro. E hanno iniziato a telefonare e poi sono venuti, tutte le persone che sono venute hanno chiesto, hanno quasi avuto anche la percezione che volessero anche imparare qualche cosa di un mondo che si sta un po' perdendo. Perché insomma l'agricoltura tutti sanno che cos'è, però poi nel campo in realtà ci vanno in pochi per conoscere poi la realtà di come le cose vengono fatte. Allora noi non dobbiamo ridurre la quantità di cibo, anzi dobbiamo quasi aumentarla perché il cibo serve, dobbiamo andare verso un cibo sano e c'è la possibilità con questi nuovi protocolli di coltivazione di arrivare a questo punto. Questo era un pomodoro che gli altri anni aveva bisogno di 180 unità di azoto, azoto gli si dava attraverso la concimazione chimica, quest'anno la concimazione chimica si è ridotta a 59 unità. Come si è svolta questa raccolta di questo pomodoro solidale, oltre che biologico è stato un pomodoro solidale? Le persone mi telefonavano, io gli davo appuntamento qui al piazzale e poi li accompagnavo personalmente qui al campo perché volevo evitare che qualcuno venisse attrezzato di un bel furgone e portasse via tutto magari per rivenderlo e questo non andava bene. Quante famiglie ne hanno beneficiato? Una ventina, grossomodo, non è che le ho proprio contate, però una ventina anche con bambini a seguito, quindi questa è stata anche una cosa carina. e tutti quanti poi si sono presi questi 70-80 kg di prodotto, mediamente a testa, chi ne ha presi di più, chi ne ha presi di meno, per fare proprio la salsa di pomodoro a casa come veniva fatta una volta, con un prodotto che veramente merita, perché è veramente buono, perché ha una caratteristica, non è vuoto dentro. I pomodori che siamo abituati a comprare o ad usare, dentro c'è una camera d'aria, il pomodoro da industria invece è stato selezionato appositamente per essere pieno come una mela, pieno come una mela vuol dire che la polpa è perfetta e in questo momento in cui è particolarmente maturo, quasi sta passando, una polpa di questo genere ti dà un sapore particolare.